Ciao a tutti, sono Fabio Incorvaia, resta a casa e oggi si mangerà la pasta al forno che ha fatto mia moglie la Roby, infatti per quella ancora in pigiama. Adesso così vi spiegheremo che cosa faremo noi in questa giornata. Passeremo la giornata mettendo a posto, riposandoci, qui ci sono i miei trofei dei campionati mondiali, quindi userò questa giornata per dare un po' una spolverata, qui abbiamo il re della casa, ciao Lillo, saluto a tutti. Lì pensa solamente a mangiare e a svegliarsi alle 6 del mattino, niente, questo è un po' di relax, divano, televisione, poi c'è qua, c'è lui che mi sta già aspettando in pole position per dare un'aiuto alla Roby in casa a pulire, e poi, niente, stiamo qua, facciamo anche poi naturalmente anche un pochettino di ginnastica in casa, perché se no la pasta al forno, ai ai ai, ok? Un saluto a tutti, ciao!